Quante ne abbiamo oggi? Oggi 11 febbraio, il 12 Oggi, che è l'11 o il 12 febbraio, è un mercato C'è un pochino di neve, questo è filmato e per piccolo Se volesse venire a fare un giretto qua, non so Io credo che avrebbe comunque delle difficoltà Delle difficoltà anche qua, perché Qui era il pavimento Qui era il pavimento E lì c'erano i puntatori C'erano, furono La casa dell'Antonietto ormai è scomparsa, fa un po' La macchina, però La macchina c'era lì Guarda cosa, il tetto del garage di pizza E zoom, zoom Pizza, questo era il tuttuccio di casa Vabbè, ci succede Uscendo di casa, agli accidenti li hai detto WTF Perché, che cazzo è sta cosa? Un metro, due metro Non sappiamo più dove metterla, aiuto Guarda il giardino, la legna Ci sarebbe la legna sotto Il cancro di un metro e mezzo di neve Noi dovremmo prenderla la legna oggi Non so come faremo Qua c'era una siepe Qua c'è una siepe Queste sono le colonnine Non so se si capisce l'altezza Cioè, giusto per rendersi conto Dell'altezza della neve E arriva al ginocchio Continuiamo a lavorare Grazie över Grazie 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 Grazie